La serie dei licei del Cotugno a Pettino, dopo i lavori di miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, è stata riconsegnata oggi dalla provincia, ma c'è stata la protesta degli studenti fuori la scuola, perché sono convinti che i tempi non verranno rispettati ancora una volta e si chiedono il senso di fare oggi l'inaugurazione, quando il rientro non sarà poi così immediato. Per la provincia, all'anno nuovo invece, si potrà tornare in sede, dopo il famoso spacchettamento degli studenti, in ben 5 sedi diversi che va avanti da tempo. L'ultimo straccio, finanziato con 500 mila euro, è stato concluso per completare le opere, gli infissi, nuovi bagni e l'installazione di un ascensore che non c'era. Con quest'ultimo stanziamento, l'importo complessivo dell'intervento si è attestato intorno ai 5 milioni di euro, di cui 2,8 milioni per il miglioramento sismico delle strutture, 1,7 milioni per nuovi impianti e adeguamento antincendio, oltre ai 500 mila euro per le finiture. Manca l'arredo, ma la parte dei lavori è finita. Il rientro, dicono il presidente della provincia, Angelo Caruso, e il delegato all'edilizia scolastica, Vincenzo Calvisi, sarà concertato con la dirigente, ma i tempi saranno brevi. Saranno concertate con la dirigenza scolastica i rientri, ovviamente, parliamo di un edificio che ha 46 aule, più tutto il resto, di accessori. Quindi, insomma, quella che è la fase del rientro non è una fase semplice, poi dobbiamo trasferire linee telematiche, tutto ciò che in qualche modo verrà coordinato, però, insomma, parliamo di tempi abbastanza brevi e ragione. Oggi chiudiamo il capitolo adeguamento e ristrutturazione, senz'altro. Comprendo gli studenti, il disagio di questi tre anni ha frastornato molti di loro, comprensibilmente. Vi sono ragazzi che forse in questa scuola non sono mai entrati, quindi non sanno neanche quello che li può aspettare. Ma oggi è un bel giorno per questa città, i lavori sono finalmente finiti. Mancano piccole finiture, traslochi e pulizia post-cantiere, che è già in corso, che sta finendo. Contiamo con la pausa natalizia di dare un forte impulso a queste finiture minime, per fare in modo che entro il mese di gennaio le classi possano rientrare progressivamente qui. All'inaugurazione erano presenti tante autorità. La preside del Cotugno, Serenella Ottaviano, ma anche gli studenti, a vigilare che tutto fine liscio, a parlare per loro nel presidio dinanzi alla scuola, la rappresentante Camilla Spezza. Il Cotugno si trova in una situazione particolarmente difficile da sei anni e ci è stato promesso a lungo che saremo rientrati a scuola, cosa che non accadrà subito neanche dopo questa inaugurazione. Ci vorrà comunque un po' di tempo. Devono essere sistemati degli aspetti e quindi insomma noi continueremo a restare per ora nei MUSP fino a quando non potremo rientrare definitivamente. Speriamo che questa inaugurazione sia il momento effettivo per decretare un rientro concreto di tutti i ragazzi all'interno della sede.